6 metri che si vanno in pubblico, quindi mi sembra veramente un errore, un grosso errore anche di sensibilità, perché significa discriminare la cicciona, che poi non ci sono cicciona perché avrei avuto i modelli in casa. Allora, hai visto che belle forelle eri implicate in fiore? Meno male, qualcuno ci ha pensato anche a noi, ci siamo anche i modelli normali, eh? Taglia? Taglia? Non lo so, 44, 46, 48, 60...